le porte della notte di annibale paloscia letto da la musifavolista valentina ferraro registrato presso 33 hertz studio disponibile su spreaker youtube spotify e tutte le maggiori piattaforme podcast buon ascolto veniva sera e l'aria era ferma i profumi sulle rive dell'indo erano più tenui ravì non sentiva più la fragranza dolciastra del mirabolano un fiore che all'avvicinarsi del tramonto si chiudeva ed era odorosissimo solo durante il giorno i fiori della luce già dormono disse ravì tra sé come per darsi un sollecito a mettersi subito sulla strada del ritorno per non rischiare incontri pericolosi era lì da due ore ad ascoltare il flauto di bula e non si era accorto che si era fatto tardi ravì respirò profondamente si abbandonò per qualche istante alla musica da cui era incantato con la sensazione di partecipare ad un'intensa gioia la sola che non gli fosse negata nelle sue condizioni lentamente percuotendo col bambù l'argilla secca per indovinare il sentiero si incamminò ravì era cieco gli odori gli rendevano familiare ogni punto di quella strada che aveva percorso spesso per recarsi da mohenio d'aro alla casa delle danzatrici seguì il sentiero finché sentì la pungente essenza delle spighe di lavanda era arrivato al limite della giungla si poteva scegliere fra due percorsi per rientrare a mohenio d'aro per evitare la giungla dove poteva capitare l'incontro con la tigre bisognava prendere la strada del deserto che era più lunga e tutta su argilla e pietre e con qualche parte scoscesa ravì calcolò quanto avrebbe impiegato per di là ad arrivare a mohenio d'aro non avrebbe fatto neppure metà cammino che avrebbe già cominciato a sentire gli uccelli notturni a quell'ora in fausta avvenivano spesso nel deserto scorribande di predoni aveva sentito dire che erano stati visti degli uomini con i piedi in verso contrario e che correvano velocissimi all'indietro appartenevano ad una crudele popolazione degli stagni e non risparmiavano la vita a nessun viaggiatore ravì giudicò più sicura la via della giungla accostata al fiume che riduceva il cammino della metà poteva giungere al villaggio prima che le tigri cominciassero a circolare il fogliame fitto frusciava di innumerevoli rumori e di tanto in tanto si udivano gride acute e strepiti ma ravì sapeva distinguere i suoni che significavano pericolo d'improvviso gli arrivò una voce stranea a quella della giungla un belato un agnello nella giungla non poteva esserci capitato per caso ravì indovinò la ragione provò un odio intenso per i cacciatori di tigri sapeva che si servivano di agnelli come esca per tendere trappole facevano una buca così profonda e stretta che la tigre una volta caduta dentro non aveva possibilità di movimento e quindi darsi lo slancio per saltare un tetto di vegetazione sul quale era ben legato l'agnello nascondeva l'insidia alla predatrice quella caccia era fatta dai nabatei che venivano dalla rabbia e vendevano a bassora le tigri catturate violavano le leggi di mohenio daro che proibivano sotto ogni forma l'uccisione di animali produttori di lane e latte ravì sapeva di correre un grave pericolo avvicinandosi al luogo da cui provenivano i belati perché la tigre poteva essere già vicina ma era furioso e non voleva dare partita vinta ai cacciatori si affidò agli spiriti buoni che i genitori morendo avevano lasciato a vegliare su di lui disse se lasciassi quell'agnello preda della tigre so che vi sentireste offesi pensereste che non ho fiducia nella vostra protezione quanti giorni di questa lunga vita vi debbo poiché sono cieco esposto ogni momento a pericoli il vostro favore mi è indispensabile dunque mi conviene mantenerlo e non mi tirerò indietro da questa impresa che è la più folle di cui mai si sia sentito dire perché un cieco l'uomo più indifeso che esiste sfida la fiera in cui si concentrano tutte le forze viventi ravì riprese il cammino in direzione del luogo da cui provenivano i belati attraversò con sforzi inauditi spesso cadendo e ferendosi con i rovi l'intrigo della vegetazione i belati gli arrivarono più acuti infine sentì l'odore dell'agnello i cacciatori di solito sceglievano un nato di pochi giorni perché non avesse la forza di sconquassare gli artifici della trappola ravì avanzò carponi scandagliando col bambù lo strato di fogliame e radici per scoprire i contorni della buca si sentiva anche lui come l'animale tremendamente spaventato i belati presero un ritmo più rapido e affannoso come singhiozzi l'agnello aveva sentito la vicinanza della tigre la belva si sarebbe infuriata vedendolo vicino alla sua preda per un momento ravì fu preso dal panico fu tentato di fuggire una fitta di angoscia gli attraversò il petto ma fu più forte l'impulso a salvare l'agnello dall'infelice situazione continuò ad avanzare carponi trovò il tramezzo che copriva la buca le sue mani cercarono qualche sostegno che potesse reggere il suo peso ravì aveva un fisico minuto lì c'erano radici e giovani virgulti che erano resistenti non tanto da sopportare l'irruenza di una tigre ma abbastanza per tenere un corpo leggero quando credette ad aver sotto di sé uno spessore sicuro e si accertò che su un lato vi erano degli appiglia i quali si poteva aggrappare se la copertura avesse ceduto cominciò a strisciare verso l'agnello le sue mani raggiunsero subito il corpo caldo e tremante dell'animale che gli alitò sul viso l'attesa dolorosa della salvezza i legami tenevano tutte e quattro le zampe ravì maneggiando con abilità ne sciolse due l'impresa a quel punto divenne più difficile perché l'agnello si agitava e scalciava bramoso di uscire dal supplizio tentò ogni via con sforzi che gli riducevano sempre più la resistenza per allentare gli ultimi due lacci ma all'animale dimenandosi furiosamente glielo impediva e appena compiva un progresso un altro strattone faceva stringere i nodi di nuovo senza rendersene conto improvvisamente ravì perse ogni appiglio e si trovò nel vuoto la caduta lo stordì per qualche istante la mollezza del fondo aveva attutito l'urto e le membra erano sane ravì si chiese se il banco di fango in cui era fosse così profondo da inghiottirlo ma si avvide subito che non era destinato a quella sorte perché trovò un groviglio di radici su cui poteva stare perfino seduto nessuno l'avrebbe tirato fuori da lì la sua morte era sicura l'avrebbe provocata la tigre precipitando nella buca e schiacciandolo con l'enorme peso una morte istantanea meglio che essere lacerato dagli artigli della belva sopra l'agnello sentì la tigre il fiele gli schizzò nel sangue fu preso da convulsioni lanciò brevi acute grida di agonia la reazione emotiva dell'agnello alla presenza della tigre sembrò a ravì quella di un animale ormai rassegnato ad essere ucciso si rese conto di essere posseduto dalla stessa rassegnazione che tuttavia non era unita al delirio e fu persino sorpreso di non provare neppure troppo orrore per quello che sarebbe accaduto sicuramente la belva inferocita per essere in trappola avrebbe fatto scempio del suo cadavere ne avrebbe mangiato qualche parte ecco il ruggito una voce che faceva sentire nella carne lacerazione e ferite la grande mangiatrice aveva sentito dire che le tigri non conoscono la pietà invece sanno cos'è la riconoscenza un cacciatore smarritosi nel deserto si era trovato improvvisamente faccia a faccia con una tigre sicuro di essere sbranato la fiera invece l'aveva obbligato a seguirla e lo aveva condotto nel luogo dove i suoi piccoli erano caduti in una buca il cacciatore avendo capito cosa voleva la fiera si era dato da fare per tirare su i tigrotti pur temendo che poteva poi finire in pasto all'intera famiglia la tigre riconoscente non solo non lo aveva mangiato ma lo aveva aiutato a trovare la strada per uscire dal deserto la tigre non mangerà il mio intimo pensò ravi aveva sentito dire da un santo dello stupa che le tigri non mangiano l'in gli animali feroci non fanno il pasto con l'interiorità gli aveva detto il santo ravi aveva udito dal santo anche questo l'in non ha la natura nel corpo ma somiglia piuttosto all'aria ravi pensò agli uccelli che tra gli esseri animati erano quelli fatti di una sostanza più simile all'aria ed avevano anche un sapere divino tanto che i santi dello stupa osservavano il loro volto per indovinare se il futuro sarebbe stato buono cattivo per mohenio daro forse anche l'in quando non era più ospite del corpo e gli si dischiudeva lo spazio vuoto acquistava la conoscenza del futuro la tigre mandò due ruggiti era giunta presso l'argine della buca ed esplorava il terreno prima di avventarsi sulla preda l'agnello trafitto da una lancia di dolore gemette come se le sue carni già fossero dilaniate ravì trattenendo il respiro allontanò il tremore dal corpo pur avendo cessato di respirare ed essendosi abbandonato ad uno stato di immobilità continuò a sentire nell'intimo il ritmo del respiro che avveniva lentamente perfettamente regolare tanto che non gli sembrava essere il suo ma di un altro sé che da nulla era turbato e si disinteressava dei ruggiti della tigre ravì pensò che l'in era un vento che non faceva muovere neppure una foglia ravì che non aveva mai conosciuto la sua immagine perché era nato cieco la vide come in uno specchio aveva un volto magro rapito da un sorriso e occhi dorati si identificò in essa perché i ritmi che la rendevano vivente erano i suoi stessi nel silenzio in cui era immersa la sua mente udì un suono che lentamente si allontanò fino a scomparire ma subito ne giunse uno identico e poi altri una processione di suoni vocalici uguali brevi che si sostituirono ai battiti e al respiro poi il flato di bula blandì una linea di sensazioni che venivano dalla vacuità dell'intimo improvvisamente si rese conto di essere fuori dalle tenebre di aver passato le porte della notte era sulla groppa di una cavalla bianca vedeva davanti un arco d'oro alto fino al cielo che sovrastava immense montagne verdi azzurre la valle inondata di luce con colori di prati e corsi d'acqua fuggenti era chiusa dalla linea del mare che si stendeva limpida senza onde di una celeste fissità l'agnello sentì l'odore degli uomini e li invocò disperatamente per farsi liberare i cacciatori lanciarono urla selvagge quando si accorsero di aver perso la tigre e furono presi da una rabbia ancora più grande quando ne scoprirono il motivo o almeno quello che potevano supporre come motivo vedendo l'uomo nella buca credettero che fosse precipitato tentando di rubare l'agnello erano furiosi perché aveva fatto scoprire la trappola alla tigre toglietelo da laggiù e dategli quel che merita ordinò il capo dei cacciatori furono calate delle corde e scesero gli uomini più agili le loro voci dal fondo annunciarono che il corpo era ad un vecchio e non dava segni di vita lo tirarono su con le funi lo esaminò un uomo che sapeva curare le ferite dette subito il referto il corpo è ancora caldo ma il cuore è fermo credo che questo vecchio sia morto di paura quando è arrivata la tigre uno degli uomini sceso nella buca portò su il bambù di ravì e disse quest'uomo non era un ladro ma un cieco ecco il suo bastoncino con manico e punta di rame come li usano i ciechi ravì avvertì nella mente e nel corpo un senso di vigore udì la voce dei cacciatori e capì di essere stato portato fuori della buca tenne ancora per qualche secondo l'immobilità prima di riabituarsi al normale ritmo di respirazione appena si mosse avvenne un trambusto i cacciatori erano stupiti che fosse vivo lo scuotevano lo sollevavano era contento ma la sua rabbia per l'agnello usato come esca non era sfumata si riprese il bambù e si fece indicare il capo dei cacciatori sentì la sua voce tuonante e capì che era un uomo di grande corporatura ma non ebbe timore a colpirlo il bambù aprì una ferita sul viso del capo dei cacciatori questo perché hai usato l'agnello per esca disse la voce ferma di ravì il capo dei cacciatori fece un segno e due uomini presero ravì lo sollevarono quanto poterono dato che il suo peso era leggero e andarono verso il fiume lo gettarono nei vortici e subito arrivarono due coccodrilli che si divisero il corpo e lo mangiarono poi gli uomini chiesero al capo cosa dovessero fare dell'agnello il capo disse mettetelo allo spiedo per pranzo e non si parli più che questa notte abbiamo perso una tigre il popolo di mohenio daro credeva che l'in delle persone divorate dai coccodrilli prendesse dimora nei gabbiani notturni erano chiamati catarassi facevano i nidi lungo le pareti più alte e inaccessibili delle scogliere e lanciavano gride acutissime nel mezzo delle tenebre passato qualche mese il capo dei cacciatori cominciò a soffrire di orribili incubi ogni notte nell'ora più profonda del sonno era svegliato dalle grida di un catarasso che gli appariva con la testa coperta di un panno nero i santi di bassora gli dissero che era un presagio di morte prima che l'anno si compisse l'uomo privato del sonno da quegli incubi perse le forze e si dimagrì tanto che i medici gli fecero la prognosi di un tumore al fegato l'ultima ora della sua vita non tardò a venire una notte il gabbiano gli apparve con la testa scoperta aveva grandi occhi d'oro emanavano raggi ardenti così grande fu lo spavento del cacciatore che cacciò un urlo e cadde morto spero che questa storia ti sia piaciuta ringrazio ancora 33 hertz studio per avermi dato la possibilità di registrare da loro e ricordo che l'editing della traccia è opera mia se questa storia ti piace e ne vuoi sentire altre di questo genere trovi la mia playlist storie per notti insonni nella descrizione di questo episodio trovi tutti i modi per contattarmi per contattare lo studio per commissionarci letture o audiolibri per suggerirmi letture per i miei canali oppure per offrirmi un caffè virtuale noi ci sentiamo alla prossima storia ciao